E' burra! Siamo qui al coccodrillo di Cernarillo. Il nostro grande guagliardo. Il grande amico guagliardo. Il grande guagliardo di Cernarillo in presa. Stiamo mangiando dei piatti eccezionali. Scelti personalmente da Cernarillo. La curiosità è che stiamo aspettando il coccodrillo. Il coccodrillo lo stiamo aspettando. No, no. Cernarillo, come c'è la cucina del coccodrillo? Alla polonese. Il coccodrillo alla polonese. Scelti personalmente. Bene.